Le giornate FAI di primavera di quest'anno aprono un luogo importante per la città con connubio tra marina militare, passato e ancora oggi presente, ma anche cultura e istruzione legata alla nautica che è un settore importante del nostro territorio. Sì, una visione di insieme abbiamo voluto dare con questa nostra apertura, partendo dal passato perché abbiamo cominciato questa giornata con la visita dell'ospedale, ex ospedale militare Falcomatà, che nasce in un periodo dopo l'arsenale e che ha visto al suo interno la presenza di tanti giovani che sono venuti qui per fare i tre giorni di visita quando ancora c'era questa usanza. Un ospedale molto particolare del quale si può vedere sia la parte storica legata alla marina militare e soprattutto al discorso sanitario operatorio, per cui ci sono degli ambienti particolarissimi come l'antica sala operatoria fatta in un certo modo e anche l'architettura stessa che è ancora quella dell'ottocento, della seconda metà dell'ottocento, quindi tutta una parte antica. Ma poi questo palazzo è stato risistemato perché siamo arrivati al presente con appunto la presenza del polo universitario, del campus universitario della nautica. Un polo universitario di livello qualitativamente elevato con le nuove tecnologie in un ambiente bellissimo, infatti come potete vedere il parco è una cosa veramente bella, storica, il palazzo uguale con le sue bellezze e questo è un luogo veramente del cuore. Quanto è importante questo corso, questo polo della nautica per il territorio e per i ragazzi che vengono a studiare? Diciamo che è importante perché qua, proprio in questo laboratorio, si studia quello che potrà essere il futuro, adesso si sta parlando sempre di più anche a livello internazionale della condotta autonoma delle navi, cioè senza equipaggio a bordo. E qua è un laboratorio dove si possono provare i modelli matematici e i software che devono fare questo mestiere. La nautica ha il cuore proprio qui alla Spezia. Sì, diciamo che è una posizione fortunata, nel senso che qua siamo al centro di una rete, quella tirenica diciamo così, poi c'è un altro fronte nell'Adriatico però è un po' più lontano, però diciamo qua siamo ben collocati perché se va a vedere da Genova fino a Livorno, lì sta il maggior numero di cantieri, anche quelli dell'Adriatico qualcuno ha un stabilimento qua. Quindi diciamo è un posto dove c'è un contatto continuo con le aziende, dove i nostri studenti vanno poi a fare il tirocinio perché devono farlo curriculare per potersi laureare, quindi diciamo c'è questo contatto che fa da stimolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.